Questo video riguarda i migliori 3 copridivano. Il vincitore della qualità nel nostro copridivano va al Meichen Auger copridivano. Il tessuto 92% poliestere e 8% spandex rende i nostri copridivani più elastici e resistenti, garantendo sia una buona funzionalità che comfort. Ci sono anche vari adorabili colori disponibili per la tua scelta per decorare il tuo divano. Il nostro copridivano può coprire la parte posteriore del tuo divano, fornendo una protezione a tutto tondo. Ci sono alcuni cilindri di schiuma antiscivolo nella confezione, che possono essere inseriti nello spazio del divano per mantenere le fodere e rimanere dentro il suo posto. Misuri la lunghezza tra un bracciolo e l'altro bracciolo per scegliere la giusta dimensione dei copridivano per il tuo divano. Il tessuto unico può far rimuovere i peli di animali domestici rapidamente e facilmente. E i copridivano elasticizzati possono essere lavabili in lavatrice, il che è semplice e conveniente. 1. Il prodotto è solo un copridivano, esclusi divani o fodere per cuscini. 2. A causa del cambiamento di luce e del problema della fotografia, i colori possono differire leggermente dall'immagine e dal prodotto, ma facciamo del nostro meglio per rendere i nostri articoli coerenti con le foto. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il failaxler copridivano. Il rivestimento del divano utilizza tessuti confortevoli, morbidi al tatto. Può essere rimosso per pulire in qualsiasi momento, pulito e igienico. Questo copridivano non solo protegge il tuo divano assicurandoti che duri per anni a venire, ma crea anche un aspetto moderno e attualizzato che si abbina a quello dei rivestimenti più costosi. Il rivestimento del divano ha delle corde di fissaggio per farli rimanere al suo posto. Inoltre, ci sono alcuni cilindri di schiuma extra che potrebbero essere infilati nello spazio del divano per evitare le rughe. 92% fibra di poliestere più 8% spandex. Materiale estensibile, stretch che si recupera rapidamente, vestibilità sicura con orlo elastico cucito. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel copridivano è il Martina Homme Tunez. Enguitex Home offre ai suoi clienti un prodotto, le fodere per chaise long, che forniscono protezione e funzionalità extra al tuo divano. Disponiamo di diversi modelli di rivestimenti, elastici, che si adattano alle misure di chaise long e divani in tessuto, realizzati per adattarsi ai sedili e agli schienali del divano. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.